Per me è stato importante partecipare alla festa del libro e della lettura, è un'esperienza che mi ha fatto crescere, di sicuro che mi ha dato la possibilità di interlocuire, di dialogare con tantissimi ragazzi che hanno letto il libro, che hanno visto il film e che conoscevano bene la storia di Peppino. Vi ringrazio tantissimo, spero di aver dato il mio contributo, il mio modesto contributo, spero che a questi ragazzi gli sia rimasto qualcosa di positivo e vi invito il 9 maggio a Cirisi per ricordare Peppino nel quarantesimo anniversario del suo assassino.